Gentili telespettatori buona giornata. Sondaggio supermedia di Agi Utrend. Fratelli d'Italia al 29% in crescita dello 0,2%. Il PD perde lo 0,1% al 23%. Seguono i 5 stelle che guadagnano lo 0,1% all'11,4%. Forza Italia più 0,5% sale al 9,4% delle preferenze. La Lega di Salvini all'8,7%, Verdi sinistra al 7,1% in incremento dello 0,7%. Azione 3,1%, Italia Viva 2,2% più Europa 1,6%, Pace Terra Dignità 1,1%. Il centrodestra sale dello 0,9% al 47,9%. Il centrosinistra cresce dello 0,4% al 31,7%. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.